Debo dirle che è un mezzo che secondo me servirà molto ai tre comuni. L'abbiamo donato di fatto ai comuni, ma a distanza sull'Ascari, il cui obiettivo è quello di servire l'intero territorio. L'Ascari, Grattere e Cefavoli. Ma cosa fa sostanzialmente questo mezzo? È un mezzo antincentio, un mezzo come quello che hanno la protezione civile, come ha la forestale. Quindi un mezzo donato al comune di Lascari, ma sostanzialmente al servizio dei tre comuni. Quindi qualcosa di concreto, diciamo. Concreto, concreto. Così come sono gli alberi qualcosa di concreto, anche questo mezzo. Visto la carenza di mezzi da parte dei comuni, da parte anche della stessa forestale, eccetera, questo vuole essere un segno tangibile di una presenza, di una organizzazione, il cui obiettivo è essere presente nel territorio, cioè una confederazione che è al servizio del territorio.